Ma bello a tutti e ben ritrovati qua sul canale per Empoli Juventus e andiamo a vedere di portarci a casa questi tre punti importantissimi ok perché comunque c'è stata la sentenza intanto qua sto preparando un po' tutto e c'è stata la sentenza che ci hanno tirato via dieci punti e va bene ma siamo ancora in corso Champions portandoci a casa questa è anche questi tre punti e non perdiamo palla subito qui nell'aria loro oh dai che bella stazione se mettevamo subito in centro facciamo un gol siamo perditi i carichi in calcio madonna santa abbiamo preso l'attraverso sul calcio d'angolo dai dai abbiamo fatto gol fatto gol gatti che ti pareva che non è che si è annullato è autogol però annullato punizione per l'empli guarda gol annullato adesso ci fa un gol guarda lì guarda oh micca no butta ecco alla rigore rigora dai già che si comincia ad essere caldo i primi calli li accuso ecco rigore dai 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 va bene va bene va bene non siamo sotto un interno al diciassettesimo con calma concentriamoci va bene va bene c'è tutta una partita ancora da fare ok ragazzi concentrati pedaliamo ecco la calcio d'angolo per l'empli guarda no concentrati siamo andati in caput e abbiamo preso il secondo gol abbiamo preso il secondo gol non ci voglio mica credere ci prendiamo col ci spegniamo non ce lo faccio mica questa volta dai secondo tempo dobbiamo rimontare non possiamo perdere contro l'empli ecco la come perdiamo palla nella cala no no ferma la adesso boh cristina d'avena lasciamo solo caputo da solo caputo in mezzo all'area 3 0 3 0 cristina 3 0 3 0 di dove era dove era se lo spacco qualcosa se lo spacco qualcosa 3 0 dai dai 84 su un gol un gol mamma mia chiesa dai 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 chiesa mancano cinque minuti cinque minuti del gol crediamoci crediamoci dai niente 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 no no non il quarto non il quarto vi prego non è mamma mia 6 minuti di recupero 6 minuti c'è qua proprio non il quattro a uno